Musica Duplice omicidio in via Fanella a Fano, portato in carcere il figlio della coppia Luca Ricci avrebbe ucciso i genitori per motivi economici Blitz all'alba questa mattina delle forze dell'ordine all'interno dell'ex Vittoria Colonna sorpresi quattro estranei e sequestrata della droga Aeroporto di Fano, Enac, conferma la volontà di realizzare la pista in cemento l'automazione del sistema di carburante e la riqualificazione della palazzina destinata agli uffici Ancora mareggiate a Ponte Sasso di Fano, il neosindaco Serfilippi e l'assessore alla difesa della costa Talamelli incontrano gli operatori balneari In comune a Fano oggi la prima giunta con i nuovi assessori e il primo cittadino affrontati diversi temi, tra questi lavori pubblici e il tavolo economico Nella chiesa del suffragio a Fano proseguono i giovedì della confraternita Il primo incontro è stato incentrato su Cesare Tonini Bossi, il cantante nato a Fano nel 1829 Bentrovati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione di occhio alla notizia In primo piano il duplice omicidio avvenuto in via Fanella Compiere l'orrendo delitto sarebbe stato il figlio della coppia Luca Ricci che è stato interrogato dagli inquirenti per ben 16 ore Il servizio di apertura è stato curato da Massimo Foghetti A compiere l'orrendo delitto scoperto in via Fanella dove sono stati trovati lunedì scorso i corpi esanimi di una coppia di anziani di Giuseppe Ricci conosciuto da tutti come Giorgio di 75 anni e della moglie Luisa Marconi di anni 70 sarebbe stato il figlio Luca di 49 anni, metalmeccanico A questa conclusione sarebbero giunti gli inquirenti dopo ben 16 ore di interrogatorio nel corso del quale dapprima l'uomo avrebbe negato ogni addebito poi avrebbe incominciato a cedere inframmezzando le proprie emissioni ai non ricordo La stretta degli uomini della polizia è stata comunque costante e sempre più stringente fin quando i funzionari della squadra mobile di Pesaro avrebbero assunto tutti gli elementi necessari per accusare il sospettato di omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà Tutto si sarebbe consumato nella notte tra domenica e lunedì Luca Ricci che condivideva la sua residenza di una palazzina di via Fanella con i suoi genitori una palazzina divisa in due appartamenti uno al piano di sopra dove abitava il figlio assaltuariamente con i suoi due figli dato che essendosi separato dalla moglie quest'ultima era andata a vivere a Fossombrone e l'altro appartamento al piano terra dove riscedevano i genitori ebbene Luca è sceso a notte fonda per misurare la pressione alla madre il giorno che doveva nascere sarebbe stato un giorno non facile da vivere per la coppia di anziani che degli a poco sarebbero stati costretti ad abbandonare la loro casa era infatti in programma un incontro con il nuovo proprietario di questa essendo l'abitazione stata messa all'asta perché era stata data in garanzia di un debito contratto dal figlio non soluto quest'ultimo aveva in animo di aprire una bottega artigiana che gli avrebbe consentito di fare un altro mestiere invece di proseguire la sua attività come metalmeccanico alla profliglass i genitori lo avrebbero aiutato in tutti i modi ma il figlio non era ancora contento e avrebbe preteso altro denaro in quella notte deve essere scoppiata un'altra lite sfociata purtroppo nell'atroce delitto la madre è stata strangolata si pensa con una cordicella mentre il padre è stato colpito alla testa con un martello che è stato ritrovato nel pomeriggio successivo dagli inquirenti gettato in un pozzetto compiuto il duplice omicidio Luca Ricci sarebbe tornato al piano di sopra avrebbe atteso il giorno e come se nulla fosse accaduto avrebbe accompagnato il figlio alla scuola agraria di Villa Caprile a Pesaro dove il ragazzo stava seguendo un corso di recupero tornato a casa avrebbe chiamato la polizia affermando di avere scoperto l'assassinio dei propri genitori del quale aveva ripetutamente detto di essere estraneo ma le prime indagini i riscontri della polizia scientifica l'esito dell'interrogatorio avrebbero dimostrato che le cose non stavano proprio così Blitz all'alba questa mattina delle forze dell'ordine all'interno dell'ex convitto Vittoria Colonna a Fano dove gli uomini e le donne in divisa hanno sorpreso quattro estranei e sequestrato della droga sentiamo i dettagli nel prossimo servizio Altra azione congiunta tra carabinieri, polizia e polizia locale dopo quella effettuata lunedì scorso in via Fanella ieri mattina al Vittoria Colonna il grande complesso che sorge in via Montegrappa abbandonato da decenni ancora una volta occupato dai stranei nonostante che non molto tempo fa fossero state rafforzate le misure anti-intrusione ancora una volta sono stati residenti a segnalare la presenza degli abusivi dopo aver notato uno strano andirivieni che superava con facilità le misure di sicurezza messe in atto su incarico della proprietà l'Invmit società di investimenti mobiliari italiani del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'accordo con l'amministrazione comunale allora furono murate porte e finestre e chiusi tutti gli accessi oltre a essere rinforzata la recinzione esterna tuttavia quelle misure non sono bastate per preservare l'integrità dell'edificio tanto che lo stesso è stato occupato di nuovo stamattina alle prime luci dell'alba poliziotti e carabinieri di cui hanno fatto parte anche le unità cinofile sono entrate in azione e hanno sorpreso all'interno dell'enorme complesso quattro immigrati e stavolta non si è trattato soltanto di senza tetto che hanno cercato un riparo per trascorrervi la notte ma all'interno è stato trovato un quantitativo di droga e la strumentazione per confezionare le dosi dello stupefacente il Vittorio Colonna in parole povere è stato trasformato in una base per lo spazio degli stupefacenti nella nostra città l'operazione è stata condotta su input della questura e ha portato all'arresto di quattro immigrati uno di quali è stato portato via in ambulanza essendo affetto da una malattia contagiosa ha presa la notizia e giunto il commento del sindaco di Fano Luca Serfilippi che della sicurezza ha fatto un impegno prioritario del suo programma elettorale ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente e che hanno arrestato i quattro soggetti ha sottolineato Serfilippi questo è un segnale importante che diamo contro il fenomeno dell'abusivismo poiché non tolleriamo queste situazioni in cui le persone occupano illegittimamente gli edifici come amministrazione continueremo ad adottare un atteggiamento duro nei confronti di spacciatori e di persone che delinquono ci impegneremo a definire una strategia condivisa con gli enti preposti affinché Fano sia la più sicura possibile rimarco, ha concluso il sindaco che nella nostra città non vogliamo queste persone L'ente nazionale per l'aviazione civile è pronta a realizzare la pista in cemento all'aeroporto di Fano il direttore dell'ENAC Alessio Quaranta lo ha ribadito nell'incontro che si è svolto a Roma questa mattina con il sindaco di Fano Luca Serfilippi accompagnato dal vice sindaco Loretta Manocchi dal presidente della società aeroportuale Fano Fortuna Massimo Ruggeri e da Giordano Filippetti della Eagle Aviation Academy è stato un incontro positivo commentato il primo cittadino fanese da parte dell'amministrazione c'è la ferma convinzione di procedere spediti in questo percorso e di valorizzare lo scalo fanese prossimamente, dice Serfilippi ci vedremo di nuovo per definire i passaggi amministrativi questa volta anche alla presenza dell'Agenzia del Demanio per formulare il passaggio dei terreni ad ENAC che oltre alla pista in cemento realizzerà l'automazione del sistema di carburante e la riqualificazione della palazzina destinata agli uffici l'obiettivo è ridare slancio all'aeroporto entro il primo anno di governo mantenendo fede alla promessa fatta in campagna elettorale ed ora andiamo a Ponte Sasso di Fano dove nella prima mattinata di oggi il sindaco e l'assessore alla difesa della costa hanno incontrato i bagnini e gli operatori balneari della zona dopo la mareggiata di ieri durante l'incontro si è parlato della drammatica situazione delle concessioni ad ogni mareggiata e sulla partenza dei lavori delle nuove scogliere il servizio le concessioni balneari di Ponte Sasso a Fano di nuovo nel mirino delle mareggiate nella tarda mattinata di ieri il mare ha iniziato man mano a salire mentre già dal primo pomeriggio come mostrano queste immagini le onde hanno colpito le prime file di ombrelloni mentre ad altri ha mangiato letteralmente la spiaggia una situazione insostenibile per i bagnini della zona che ad ogni mareggiata sono costretti a rimuovere lettini e ombrelloni con turisti sul lungo mare dopo questo ennesimo fatto questa mattina il neosindaco Luca Serfilippi insieme al nuovo assessore con delega alla difesa della costa Mauro Talamelli hanno incontrato gli operatori balneari la situazione è che lo scorso anno è stato fatto un piccolo ripascimento delle scogliere ma una cosa minima meno di 200 mila euro che non ha approvato nessun tipo di giovamento purtroppo questa è la situazione ci vuole un progetto come Cristo comanda ma soprattutto purtroppo i turisti si stanno abbandonando perché chi deve venire in hotel e non ha la spiaggia davanti può andare da qualsiasi altra parte altrimenti rimangono a casa e ecco il problema in questi anni si sposta dai bagnal dai bagnicarmen al Lido delle Palme all'hotel Ruig da tutte le parti e ogni anno c'è qualcuno che ci rimette le penne perché quest'anno non è possibile fare una stagione del genere anche perché ripascimenti non si possono fare la sabbia non sappiamo dove trovarla è un problema non indifferente ecco insieme a loro anche Mauro Mandolini presidente della confartigianato imprese De Magnali di Fano purtroppo in questo tratto che siamo nella zona sud di Fano Ponte Sasso abbiamo questo fenomeno erosivo importante oramai da diversi anni ora abbiamo dei fondi stanziati dobbiamo intervenire quanto prima con un progetto diciamo funzionale affinché andiamo una volta per tutte diciamo a risolvere si spera questo fenomeno le scogliere in questo tratto prosegue Mandolini risalgono agli anni 2000 e nel corso del tempo con le successive marreggiate gli scogli sono crollati a causa della forza del mare che impatta sui massi oggi dobbiamo andare a ripristinare la sagomatura di queste di queste scogliere in modo che poi ritornano ad avere la funzionalità per il quale sono state sono state progettate cosa che oggi purtroppo con lo smantellamento che è avvenuto nel corso degli anni non abbiamo più ed è per questo che si sono creati dei buchi quindi quando ci sono le marreggiate importanti scarica tutta la sua forza e non la forza smorzata diciamo dalla scogliera all'incontro il sindaco Serfilippi e l'assessore Talamelli hanno fatto il punto della situazione abbiamo condiviso un percorso che è già iniziato con un finanziamento da 4 milioni e 2 dove il comune deve compartecipare con 300 mila euro e un finanziamento reperito dalla regione Marche dall'assessore Aguzzi insieme al governo c'è il mio impegno della giunta immediatamente di andare avanti con la progettazione quindi realizzare un definitivo esecutivo il prima possibile per far sì che appena ci sia l'ok dei finanziamenti da parte del governo si pensa inizio 2025 il comune sia pronto immediatamente per far uscire la gara mettere a bando diciamo questo finanziamento e far sì che ci sia il prima possibile se è possibile per la stagione prossima le scogliere soffolte come chiedono gli operatori balneari a Dancona questa mattina il comitato di riceci Maria Verde Speranza contro la realizzazione della mega discarica ha organizzato un sit-in di protesta davanti a Palazzo Leopardi sede del consiglio regionale delle Marche la protesta pacifica è stata organizzata in occasione del consiglio regionale svoltosi questa mattina il comitato presente questa mattina a Dancona è tornato a chiedere con forza il vincolo paesaggistico a Riceci per bloccare il progetto che prevede la realizzazione della maxi discarica a partecipare al sit-in di protesta circa 30 persone i manifestanti fanno sapere dalla regione Marche sono stati accolti da alcuni dirigenti e hanno ricevuto chiarimenti in merito alla questione inoltre sottolinea Stefano Guzzi sessore all'ambiente all'urbanistica della regione Marche che la questione di scarica di riceci procede su una strada parallela a quella del vincolo ritorniamo a Fano dove questo pomeriggio si è svolta la prima giunta della nuova amministrazione sentiamo nella prossima intervista di che cosa si è parlato oggi prima giunta abbiamo affrontato le emergenze del momento e abbiamo fatto il punto della situazione sulla situazione economica o finanziaria dell'ente con il dirigente dei servizi finanziari e successivamente siamo entrati subito sui principali cantieri della nostra città penso ad esempio a Piazza Andrea Costa dove dobbiamo assolutamente intervenire parlando con la ditta e con tutti gli operatori economici pertanto abbiamo convocato per domani pomeriggio alle ore 17 un tavolo di confronto con loro come avevamo promesso in campagna elettorale per prendere le migliori decisioni insieme abbiamo già fissato per martedì prossimo il tavolo economico insieme a tutta la giunta quindi tutte le associazioni di categoria avranno il modo di confrontarsi con la giunta intera e mi auguro che questo appuntamento sia con cadenza almeno bibestrale poi è chiaro che ogni assessore di competenza parlerà con il tavolo economico quindi sono i primi passi che stiamo muovendo come giunta intera ci sono tante emergenze da affrontare che affronteremo insieme quindi in totale trasparenza ci piace rendere i doti i cittadini gli operatori e decidere insieme a loro le migliori soluzioni un altro cantiere che è posto all'attenzione della giunta ad esempio è quello di all'anfiteatro Rastat dove è indispensabile e prioritario riaprire la passeggiata per permettere a tutti i turisti a tutti i pedoni a tutti i ciclisti di passare in maniera protetta e sicura a lungo la passeggiata di Sassonia Nella chiesa del suffragio di Fano proseguono i giovedì della confraternita il primo incontro è stato incentrato su Cesare Tonini Bossi il cantante nato a Fano nel 1829 a cui è stata dedicata una piccola traversa nei pressi di via Fanella sentiamo Stasera siamo al primo appuntamento con i giovedì della confraternita per parlare di Cesare Tonini Bossi innanzitutto chi era e come è legato a Fano Cesare Tonini Bossi è un fanese è nato proprio in questa zona nella zona del suffragio ha lasciato Fano da giovane perché è diventato famoso come basso cantante basso in tutta Italia ma poi anche in tutta Europa ed è ritornato negli ultimi anni della sua vita a disibirsi a lasciare a fare gli ultimi anni della sua vita esattamente qui a Fano quindi è nato a Fano è stato fuori per tutta la sua vita e è ritornato a Fano basso cantante che ha cantato con i più grandi artisti del tempo illustre Fano gli ha dedicato una via già dal 1951 una piccola via ma legata a un grande personaggio sposato anche con una donna di 16 anni più giovane sposato sì era talmente diciamo sempre molto impegnato da stare fuori all'estero che si sposerà all'età di 42 anni quando lei di anni ne avrà 26 con una donna di Fano che aveva conosciuto in uno dei tanti forse non tanti ma pochi ritorni qui nella città di Fano l'aveva conosciuta anche lei era una pianista anche lei dedita alla musica si sono innamorati questo matrimonio tra due fanesi che poi avrà portato avanti tutta la dinestia dei Tonini Bossi perché loro avranno quattro figli e tanti altri Tonini Bossi in giro per il mondo ecco vogliamo dire che questa via per chi non conoscesse Fano dove si trova e che è un po' caratteristica è una via una traversa di via Fanella che è una via nota nella città di Fano è una via una traversa che è anche una via chiusa con delle case piccole colorate gli abitanti ora le stanno ristrutturando quasi tutte quindi è diventata caratteristica come era caratteristico il personaggio al quale è dedicato ecco possiamo dire che anche attraverso il racconto di alcuni personaggi storici si rivede un po' la Fano di allora e quindi si celebra anche la nostra Fano io ho intitolato gli articoli che ho scritto su di lui piccole e grandi biografie perché effettivamente sono piccole persone ma sono grandi biografie perché veramente hanno reso illustre quello che dovremmo fare e recuperare un pochino le nostre tradizioni e tutti questi grandi personaggi che spesso sono nati nel dimenticatoio Francesca lei è una discendente di Cesare Tonini Bossi una caratteristica della vostra famiglia che avete ereditato la musica l'arte come è nata l'idea di questa serata? l'idea di questa serata è nata da un articolo bellissimo che Emanuela Palmucci che stasera racconterà meglio ha voluto fare proprio il ricordo di questa famiglia nostra famiglia che ha dato così tanti discendenti o amanti semplici amanti della musica oppure anche professionisti della musica ed è nata attraverso uno scambio di documenti di quadri di suppellettili così di manoscritti di cose che sono venute fuori che poi sono state approfondite da Emanuela appunto per lo studio sulla nostra famiglia quindi io ne sono molto grata perché io avevo tanto materiale ma non l'avevo ordinato così bene come ha fatto lei ci voleva una persona esterna insomma per raccogliere diciamo tutto il tesoro così di questa avventura familiare che è stata quella dei Tonini Bossi qui a Fano presente alla serata anche l'associazione corale Luigi Tudini Bossi di Senigallia che ha riproposto brani tratti da repertorio sacro con l'intento di proporre un percorso attraverso le Ave Maria nei secoli l'attesa è finita tornano i libri di Passaggi Festival domani mercoledì 26 giugno prende il via Fano la dodicesima edizione dell'evento dedicato alla saggistica e alla non fiction che proseguirà fino a domenica 30 giugno numerosi gli eventi e le proposte culturali dalle presentazioni librarie agli incontri con gli autori dai laboratori per bambini agli spettacoli teatrali e ancora mostre masterclass aperitivi scientifici pratiche di benessere tutto ad ingresso gratuito in diversi luoghi del centro storico e della zona mare tra gli ospiti della prima giornata Marco Pesatori Claudia Parzani Mauro Canali Simonetta Fiori Marco Ravelli Maria Beatrice Alonzi Andrea Angelucci Piero Martin e Antonio Padellaro domani sera su Fano TV torna una nuova puntata di Teleracconto sentiamo allora chi sono gli ospiti della terza puntata un saluto agli spettatori di Occhio alla Notizia grazie per questo collegamento stiamo preparando siamo negli studi di Fano TV stiamo preparando la prossima puntata di Teleracconto che come spero sapete va in onda il mercoledì dopo le ore 20 e prima del nostro telegiornale come sempre noi anche in questa puntata di domani vi daremo conto degli appuntamenti del fine settimana in modo da potervi informare su quelli che possono essere i vostri viaggi le vostre scoperte e anche il gusto di assaporare le specialità che vengono preparate in queste occasioni e poi domani avremo due ospiti anche naturalmente in trasmissione si tratta di Valerio Ferri che ci parlerà di Grigliate in Piazza manifestazione che si tiene nel fine settimana a Cagli e Federico Piersanti invece di Corinaldo che ci parlerà della contesa del Puzzo della Polenta quindi appuntamento domani sera dopo le 20 con Teleracconto grazie alla redazione per questo collegamento buon lavoro e questo era il nostro ultimo servizio subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al progetto crescere nella cooperazione della BCC di Fano grazie per averci seguito buona serata su Fano TV arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.